Bentornati e ora vediamo un po' di storia con degli sviluppi automobilistici e tecnici in momenti veramente neri per l'umanità. Accadeva a Berlino e nel servizio, vediamo di cosa si tratta, succedeva questo tra le due guerre mondiali. Alle 10 del mattino del 23 maggio 1928 un'auto da corsa futuristica con ali laterali si scatena lungo l'Avus a Berlino mentre si vila acutamente. Fritz von Opel, 29 anni, nipote del fondatore dell'azienda Adam Opel, aveva successivamente sparato i 24 razzi a combustibile solido alloggiati nella parte posteriore del suo Rack 2 ed è stato catapultato con una scia di fuoco. I 3000 spettatori impazziscono quando l'auto nera lucida con la scritta Opel si ferma. Rocket Fritz di Rüsselsheim aveva stabilito un nuovo record di velocità in pista con 238 km all'ora. Inoltre ha dimostrato al grande pubblico che la propulsione a razzo è potente e controllabile. Opel suona nell'era dei razzi davanti alle telecamere e getta le vasi per il volo spaziale con equipaggio. E' l'ultima parte della storia dell'Opel Rack 2 che risale all'autunno del 1927 quando Fritz von Opel decide di essere attivamente coinvolto nel progetto di ricerca missilistica del pubblicista e astronomo Max Falier dopo averlo incontrato. Il pilota, l'imprenditore e l'ingegnere qualificato portano il proprio impegno insieme alla forza innovativa e finanziaria di Opel. Da un lato perché è personalmente affascinato dalla tecnologia missilistica e dall'altra perché spera che il piano visionario abbia un impatto positivo sul marchio Opel.